E come funziona il percorso di un'opera di questo tipo? Esiste un'intermediazione, una vendita, uno scambio? Come funziona? Funziona come va, dipende tutto. Ma la tua volontà comunque... La prossima scultura che uscirà di qua sarà domani e finirà sepolta sotto la città di Torino. Ah, che roba, che figo. Precisamente dove? Sono incazzato nero con l'autore. Eccolo il minchione, pronto in studio, prontissimo, vestito da pollo. Buonasera a tutti, come state? È arrivato Elf. Giacomo, ci sei? Ma ragazzi, siamo partiti. Se io vi dico, in cosa sono incappato, non riuscivo a trovare la finestra di Skype. Ho detto tutto, Antonio. Infatti ho visto una certa segretà e ho detto, boh, ho già fatto la cappella, ho detto, boh. Ho già detto, boh, minimo c'è già l'ospite, penserà che stavo parlando con lui. No, in realtà stavo parlando con me stesso per quanto sono un po' rosfigato. No, ma Antonio, ti giuro, non trovavo la cosa di Skype. Dicevo, ma del cavolo è? Ed ero qua che ho dieci monitor, devi sapere. Vabbè, comunque, è tutto per scrivere quella frase che ho scritto su WhatsApp. Cioè, è totalmente a caso, ma non importa. Va bene, così. Come stai? Tutto bene, Antonio? E come mai questo outfit? E niente, perché sono un povero sfigato. Perché? Perché a punta di Natale ci tengo e volevo fare qualcosa a te, ma... Ah, c'è proprio anche il camparellino. Evidentemente, eh, ci ho pure scritto anche ho ho. Però evidentemente qua a credersi siamo veramente in pochi. Ma va bene così. Vabbè, oggi sono polemico. Oggi sono veramente polemico e poco politico. Va bene, sei polemico. Noi salutiamo Federico Garella che per ora è ancora nello schermo. Non l'è stato ancora bannato dal nostro schermo. Come stai, Geriu? Ciao, raga. Tutto bene, tutto bene. Ti stai rilassando. Chiuso a casa. Te la stai scialando, eh, Garella. Sì, sì. Io devo dire che non sono mai stato bene come in questo giorno. In questo giorno di casa. Mi è passato pure il raffreddore. Non raggiungo altro. Va bene. Allora, Antonio. Ci sono. Eccomi. Di che cosa parliamo oggi? Federico. Garella, di cosa parliamo oggi? Oggi è una nuova puntata sul mondo dell'arte, no? Abbiamo avuto tanti artisti. Da Uoca, Alicca. Ultimamente abbiamo fatto il nostro escursus sull'arte digitale e gli NFT. Oggi vogliamo vedere un nuovo tipo di arte che non abbiamo ancora affrontato qua. Un uovo sodo, ovvero la scultura, no? Per cui abbiamo il nostro ospite che è Nazareno, Nazareno Biondo, che è uno scultore. Lui lavora col marmo e fa delle opere molto interessanti che andremo a vedere nel corso della puntata. Quindi direi che possiamo introdurlo. Benissimo. Io dico, prima di introdurre il nostro ospite, che noi veramente abbiamo rincorso il nostro ospite per mesi. Non perché lui si è fatto rincorrere, ma perché noi volevamo a tutti i costi parlare con lui. Io devo dire che è successa anche una cosa curiosa l'altra sera. All'evento mi si parla davanti questo ragazzo alto e si presenta. E io non collego subito, perché in realtà io avevo visto tutte le sue opere, ma non l'avevo mai visto in faccia. E mi ha detto, giovedì sono ospite uovo sodo. Dio, cazzo, scusami, sì, non me ne ero accorto. Quindi, raga, siamo davvero contenti di avere un artista. Tra l'altro ho visto, di nuovo non trovo Skype, ok. Ho visto, tra l'altro, che è nel suo studio. Quindi da Skype vedo che è nel suo studio. Io direi, quindi, a questo punto lo facciamo entrare e guardate dove si trova, in questo paradiso di marmo, credo. Ciao, Nazareno. Ciao, Nazareno, buongiorno. Come stai? Bene, vai? Bene, bene. Alla grande. Senti, ma dico bene, tu sei immerso nel marmo in questo momento? È marmo o un altro materiale? È a Carrara, Carrara 90. Questo è marmo bianco di Carrara e tutto fatto di uno strato di polvere perché lavoro dentro questo spazio dal 2012. Parca miseria, che bellezza. Posso partire subito con una domanda? Eh, Antonio, vai. Respirare tutto questo marmo negli anni? Cioè, com'è? Cioè, nel senso, ci sono tante, devi prendere tante precauzioni, una roba tranquilla, devi fare dei periodi di pausa. Di sicuro ho vivo con la mascherina prima del Covid. Ok. Il precursor. Infatti, immaginavo. Io ho visto, ho visto qualche... Se salite al resto oppure no, cioè, perché comunque è... Ah, c'è chi si alimenta di marmo, di polvere di marmo. E posso chiederti una roba? Ti voglio, anche io voglio farti una domanda, scusate, ormai che siamo partiti in questa direzione, rimaniamo in questa direzione per un attimo. A me capita ogni tanto di saldare, ma pochissimo, poca roba. E effettivamente il primo periodo in cui respiravo stagno e piombo, quasi mi piaceva, anche con la mascherina, ma mi piaceva, cioè, avevo un buon odore. Dopo un paio di giorni è iniziato a diventare estremamente nauseante e adesso soltanto la minima esposizione a quell'odore mi dà veramente fastidio. A te piace? Sicuro perché si producono degli agenti chimici che non vanno bene saldando. Invece qua si tratta di polvere di marmo che sarebbe carbonato di calcio ed è una sostanza naturale e non è cancerogena. Ah, capito. Quindi non ti dà quella sensazione di nausea dopo un po', cioè a te piace ancora la polvere di marmo? Ha un odore particolare ma non è così forte, quindi con la maschera nemmeno lo senti. Ah, che bello. Io sarei veramente curioso di sentire l'odore del marmo. Sinceramente non ho idea di come sia. Alla fine il carbonato di calcio sarebbe il componente delle ossa, quindi... Ok, ok, ho capito. Quindi respiri ossa tutto il giorno. Bello, bello. Allora... Teniamo per attenzione quando si lavora il marmo nero perché quello invece a base di silicio è quello sì che può essere cancerogena. Oppure ci sono gli strumenti, degli attressi che si usano che sono tipo delle pietre verdi e anche quella è silicio e quindi comunque è meglio proteggersi. Meglio mascherina. Nel dubbio meglio mascherina. Senti, Nazareno, ma... Anzi, siete fortunati perché di solito non mostro mai il mio viso, ho sempre la maschera, quindi... Esatto, esatto, infatti. Anche all'evento, tra l'altro... No, sto scherzando. Senti, Nazareno, ti volevo chiedere una roba. Come si inizia a fare il tuo lavoro? Cioè, voglio andare un po' più in profondità nella domanda. Non è usuale. Tu comunque quanti anni hai? Più o meno avrai la nostra età, immagino. No, dell'85. Ok, sei un po' più grande, ma siamo lì, insomma. Ecco, come si intraprende un percorso del genere? Cioè, non conosco tanti che colpiscono il marmo, ecco. Solo te, in realtà. In realtà, non so bene, perché da quando mi chiedevano da piccolino io ho già l'idea chiara, volevo fare questo, quindi non so bene da cosa è nato. Te dico sempre, infatti, che è nato dalle vite precedenti. Ah, ok, ho capito. Cioè, quindi in pratica non c'è nessuno che ti ha introdotto a quel mondo, è proprio una cosa che sentivi, diciamo. Esatto, sì. C'è, da parte di mia mamma c'è stato questo nonno che era un artista, anche se era un po' fuori dal mondo, quindi ha fatto un parco, un suo parco, tutto, che sembrava un piccolo parco guello, pieno di mosaici. Che roba. E io sono cresciuto lì insieme a lui quando ero piccolino, quindi probabilmente quello ha influito. Pazzesco. Però lui però non lavorava al marmo, io invece, per il mio percorso è stato di fare liceo artistico e l'Accademia delle Belle Arti, scrivendo mia scultura, e dal primo anno ho cominciato direttamente col marmo, anche se sarebbe dovuto aspettare il terzo anno. Ah, ok, ho capito. E prima di... Mentre che io l'ho portato, l'ho fatto per tutti i sei anni di Accademia, perché ci ho messo sei anni. Ma vorrei, prima di entrare nel tecnico, insomma, nel chiederti delle domande proprio un po' più fisiche, è possibile, Fede, vedere, Fede, Andre, vedere alcune delle sue opere? Perché io ce le ho ben presente, però giusto per il pubblico sarebbe bello vedere effettivamente quanto è incredibilmente realistico quello che fai. Se è la parola giusta, forse no, in realtà, quanto è strano e incredibilmente materico quello che fai, ecco. Sì, abbiamo sia un video presentazione che poi alcune immagini delle sue opere, quindi direi che possiamo far partire il video. Andiamo col video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A un non so che di cyberpunk, come Nazareno, scusa? Che paura col video, dico. No, a un non so che di cyberpunk comunque il tuo modo di, anche di scolpire, anche forse il significato intrinseco che c'è nelle cose che fai, almeno questa è la prima cosa che da totalmente ignorante mi arriva un po' all'occhio. Ha senso? Sì, in realtà di sicuro è tutto un po' particolare. Alla fine quando si parla di scultura in marmo immagino tutti i corpi di persone, tipo Busti o... Mentre io sto rappresentando l'uomo attraverso gli oggetti che usa e consuma e anche descrive questa follia che c'è dietro la società. Bellissimo. Antonio. Nazareno, io volevo farti una domanda. La settimana scorsa noi abbiamo parlato sempre qua, o so, appunto di tutta quest'arte digitale. E vedere appunto questa antitesi, cioè vedere una persona che lavora al marmo, quindi un'arte molto fisica, cioè molto meno, diciamo, moderna, ma nel senso semplicemente per i mezzi che si utilizzano. Cioè, come ti rapporti tu con queste nuove onde, onde artistiche? In realtà sono molto affascinato da tutto quello, è esattamente l'opposto, anche se si parla sempre di autenticità, di qualcosa, perché appunto questi file NFT parlano di autenticità. E quindi pensare che io sono ancora uno scultore che lavora da sé senza usare tecnologia o assistenti, quindi parliamo di qualcosa di super autentico. E mi piacerebbe molto, infatti, trasportare tutto in quel mondo fatto di codici. Ah, quindi tu sei interessato, diciamo, a... Interessato. Sei molto interessato, anche tu. Mi piacerebbe a tutta una serie di opere, che le opere fisiche diventeranno questi codici e le opere fisiche scompariranno negli elementi, tipo una sottoterra, una sott'acqua. Ah, bello, cioè una bellissima visione. Quindi tu in realtà, cioè, è un po' un, non so, uno simoro mi sembra che tu, che sei così appunto materico, poi al di là del significato nelle opere, eh, sto parlando proprio di... No, ma sono del parere che non, cioè, non possediamo nulla, capito, di materiale. Quindi, infatti, anche tutte le opere che faccio, che ho questa produzione, produco come un pazzo, ma non mi leggo niente, quasi, infatti, non vedo l'ora che prendono il loro percorso. Ah, bello. E come funziona il percorso di un'opera di questo tipo? Cioè, esiste un'intermediazione, una vendita, uno scambio? Come funziona? Funziona come va. Dipende tutto. Dipende, ma la tua volontà comunque... La prossima scultura che uscirà di qua sarà domani e finirà sepolta sotto la città di Torino. Ah, che roba, che figo. Precisamente dove? Spoiler, si può dire. Magari sì. Non lo so, se tu non vuoi dirlo, non dirlo. Noi chiediamo per essere curiosi, non ci rendiamo neanche conto se una cosa si può dire o si può dire. Chiedo un attimo al mio amico immaginario e vi dico. Vai, chiedigli, chiedi. Anche al tuo albero di Natale di marmo vuoi chiedere. Mi fa ridere perché io ho questo albero di Natale dietro e tu sei quello di marmo. Sì, si tratta di un bosso che è morto, che aveva 90 anni. È una pianta particolare. Ah, che roba. È difficile trovare un tronco di condimensione di bosso. Invece questo qua è un albero che non è mai stato vivo. Quindi noi abbiamo voluto proprio riprodurlo qua direttamente dalle cantine di Roberta di Vinovo. Ha deciso di metterlo in casa nostra e dargli una seconda vita. Quello non è di marmo. Questo non è di marmo. Questo è di un materiale terrificante, pieno di cimici, però, quando l'abbiamo tirato fuori dalle scatole. Nazareno, volevo chiedere. In realtà, secondo me, possiamo dire tutto di questo progetto. Anzi, magari è anche interessante saperlo. Prego. Vai, vai. È la prima scultura che diventerà uno di quei file di cui avete parlato. E praticamente domani sera la prende la mettiamo in un posto molto importante a livello esoterico. Ok, ok. Quindi potrebbe essere... La che sparisce proprio non si potrà recuperare. Che bello. Ma posso chiederti come... le dimensioni, cioè nel senso, cosa vuol dire che va sottoterra? Se si può dire, sempre chiedi alla mia... È una di queste sculture più maneggevoli che faccio, quindi le dimensioni sono, diciamo, a portata di mano. Ok, chiarissimo, chiarissimo. Io volevo chiederti... In una buca, nel buio. Fantastico. Io volevo chiederti, invece, come nasce, proprio da un punto di vista tecnico, una scultura? Cioè, esiste un bozzetto, un disegno? Vai... cioè, come funziona? Io vado un po' contro i metodi accademici, cioè non... l'idea ce l'ho nella mente, tipo. E a volte faccio dei disegni, a volte preparo dei modelli, ma di solito proprio no. E prendo spunto, magari, da un oggetto, ed è quell'oggetto che passa attraverso di me e diventa poi quel pezzo unico. Ma non è detto che sia identico. Ah, ok. E prendo spunto. Ho capito. Cioè, quindi, praticamente, tu... Per fare questa opera molto grande, l'opera più grande che ho fatto è questa 500, che era da un blocco di 15 tonnellate. E praticamente ci sarebbe stato il metodo dei punti, che si tratta di costruire un telaio attorno al modello e lo stesso telaio ogni volta lo trasferisci invece sul blocco di marmo e c'è un ago che ti dice, ti determina quanta superficie c'è da togliere per arrivare... cioè, quanto materiale c'è da togliere per arrivare a quella superficie, esatta. Io tutto guardavo, tutto questo è utilizzato, è stata l'immagine di questa 500 del modello che passava attraverso di me e si è trasformata... Infatti, secondo me, se si scalalizzano il modello e poi si scalalizzano altre, sicuramente non verrà più una differenza. Però la parola è comunque qui, è quella di vedere quel tipo di modello di macchina. Noi lo stiamo vedendo, intanto stiamo vedendo il video, lo vedi anche tutto lo schermo. E questo è il mio tempo più, il mio tempo è il mio tempo. Esatto, perché è il progetto più lungo che... davanti di un sacco di persone sapevano di questa 500, ma naturalmente era una commissione, quindi mi auto finanziavo e ci mettevo molto anche per questo. E ovviamente lavoravo progetti più... Snelli. Esatto. Ma la zero è l'ora? Tutti mi chiedevano, ma che cosa ne farai? E io, scherzando, cominciavo a dire che l'avrei buttata nel po'. Però la cosa mi sfuggì da di mano, che arrivavano persone che non conoscevo e mi dicevano, ma veramente la butterai nel po'. Ovviamente ho dovuto mantenere la parola, perché mio papà mi ha insegnato che la parola conta, capito? Ma scusa, è poi rimasta lì o l'hai recuperata questa 500? In realtà la cosa che mi sarebbe piaciuto era che affondasse, cioè che andasse proprio giù e non la prendessero più. Noi, qualcuno qua, non so. Invece è stato perché mi hanno invitato in questo palazzo che ospitava il mio lavoro durante la settimana dell'arte e quindi ho pensato che siccome la notte dell'arte di solito è il giorno di Halloween qui a Torino e quindi succede che invece quest'anno è il primo anno che trasferiscono tutto alla settimana dopo. Io però sono stato fedele a tutti gli anni precedenti e per la notte di Halloween ho messo questa scultura nel po' anche per inaugurare poi sia l'arte a Torino che poi questa mostra a palazzo. Capito, ma invece da un punto di vista intanto se vogliamo far scorrere le sue opere sotto nel video facciamolo così poi magari se ci vengono delle curiosità nello specifico gliele chiediamo direttamente. Ma Nazareno, tu dici che ti sei autofinanziato per questo progetto della 500 ma un blocco del genere, prima di tutto quanto può costare a Spann? Nel senso, quanto è oneroso questo lavoro e come te lo trasportano? Anche questo vorrei capire. Sì, probabilmente lì dipende da chi da chi minacci o rapisci per il costo del blocco. Ma tu scegli il cavallo, cioè il pezzo di marmo te lo scegli o dici voglio un cubo di marmo quattro per cinque. Per questo della 500 sono andato a Carrara tre volte per riuscire a trovare il pezzo giusto poi anche grazie a una persona è successo tutto. Mentre per trasportare, scaricare i blocchi devi organizzarti tu, cioè chiamare un bilico che ti fa il viaggio poi arrivati qua ci andava un autogru che riuscisse a scaricare quel peso poi l'autogru non entrava in laboratorio quindi ho fatto un battuto a stesso livello del pavimento quindi l'abbiamo messo su dei tondini di acciaio pieni e l'abbiamo fatto correre con un altro mezzo ancora spingendo. Come abbiamo una rapina in banca, Nazareno. Comunque sarei bravo in quello. Senti, ma perché il marmo? E non c'è nel senso tu lavori prettamente non ho capito, scusami. Per superare la prova del tempo. Cioè? Che il marmo dura. Sì. Ah, in quel senso di scusare io sono ciuccio in questa roba qua. No, ma anch'io però nel senso legno... No, però nel tempo non ho capito cosa intende se magari il marmo va lavorato entro un certo momento da quando, che ne so, rompi non lo so vento, qualunque roba avevamo la professoressa di biologia che c'è stato poche cose veramente inutili quindi sono un genio del travertino ma il marmo proprio mi manca. Comunque per quella vicenda della macchia nel fiume è stato abbastanza divertente. Che cosa? Più che altro che c'era questa mostra personale in questo palazzo in centro Torino e quindi era tutto organizzato per fare quello e io non avevo chiesto permessi a nessuno non è per... cioè è stata una mia follia capito? Ah, ok. Questo paletto elettronico scendeva a due ore di mattina quindi in pieno giorno ho ingaggiato questo signore che aveva un camion e ha potuto scaricarla lì e mentre che succedeva tutto è arrivata anche la polizia ad assistere all'evento e poi gli ho spiegato le cose ed erano molto contenti in realtà. Sto pensando a tutte le volte che io e Smils abbiamo fatto delle cose a caso senza chiedere alla polizia e quante volte abbiamo rischiato di essere portati in galera e certo se arrivi con una 500 di marmo alla fine i poliziotti... erano molto affascinati e comunque hanno capito che si trattava di una performance artistica quindi... Certo. Quindi non ti hanno rotto le scatole anzi erano entusiasti. Senti Zerano io così è una cosa sempre che penso non bisognerebbe chiedere però già che siamo qua e ci dobbiamo fare delle domande io un po' di domande te le faccio. ho visto così anche solo su Instagram ma anche nelle opere che scorrevano qua a fianco ho visto tutta una serie di insomma di opere con dei significati piuttosto importanti cioè adesso io ho appena visto il bitcoin la moneta di bitcoin che hai fatto tutta piegata e ci ho visto tante cose poi quello che ci ho visto io probabilmente è diverso da quello che ci ha visto Antonio Federico ma tu hai un diciamo una sorta di filosofia o di significato cioè per le cose che che scolpisci o che costruisci hai una sorta di visione che in qualche modo mette tutto all'interno dello stesso cappello oppure tutte le opere hanno un significato diverso? In realtà sono non so sono fuori dal mondo ma allo stesso tempo rappresento tutta la simbologia che ci può essere quindi di sicuro che a ogni persona arriva in un modo diverso e anche che magari ci vedo significati che io nemmeno avevo pensato o magari sì capito ok ok certo dal momento e dal tempo alla fine sono cose che a volte ti rendi conto che magari rimanevano nell'inconscio che poi alla fine è quello di tutti quindi certo e a te a te piace spiegare le cose che che costruisci che scolpisci oppure non ti piace? di solito non mi ricordo neanche che cosa ho fatto Antonio vai dici senti Nazareno ma volevo chiederti tu appunto prima dici ho capito male io non mi ricordo hai detto che cerchi di raffigurare degli oggetti che comunque rappresentano un po' il tempo che viviamo se non ho capito male ad esempio una 500 piuttosto che la Vespa o il Piaggio non mi ricordo bene quale è l'altra scultura anche di motorini non è che ne capisca molto cioè sono vicini alla tua esperienza o sono più vicini a un'esperienza italiana perché cioè nel senso questo ad esempio sono oggetti che ad esempio io non vivo cioè paradossalmente vivo di più un Mac in vento no? sì piuttosto che altri oggetti scusa qual è la domanda? la domanda era questi oggetti che tu rappresenti rappresentano una tua esperienza o rappresentano un'esperienza comune direttamente italiana? rappresentano un po' tipo la società e in realtà se ci pensi la scelta della 500 sia che vabbè è diventata tipo a livello mondiale tipo un'icona ma anche che in realtà è stata determinata tipo in quel tempo in cui alla fine hanno deciso di avviare questa industria anche rispetto ai motori tutto quello che viviamo oggi ma in un tempo in cui c'erano già delle scoperte che si poteva avviare tutto in un altro modo capito? perché oggi non avremmo avuto alcuni problemi cioè ad esempio c'erano già motori alternativi o questo tipo di cose e quindi se la prima macchina che è diventata a livello mondiale poi sai tipo un culto si fosse già impostata in maniera diversa oggi cioè comunque noi siamo nati e la nostra generazione è nata più o meno su quelle macchine infatti all'interno l'ho svuotata tutta dietro c'è ci sono i sedili dietro con due preservativi una coperta due sigarette c'è una scena di vita vissuta quindi anche perché in realtà i miei genitori si sono conosciuti mio papà andava a prendere a mia mamma con la 500 quindi io probabilmente sono nato lì con quei preservativi secondo me è successo anche che appunto era un momento in cui se avessero scelto di avviare questa industria dell'automobile già con motori ecologici quello già si poteva fare di sicuro quindi quella pietra miliare di una scelta infatti poi cioè poi in realtà lì è tutto che ognuno la vede come vuole però sì ho deciso di farla bollata vissuta e sì anche tutte delle crepe perché poi durante l'evento ho proprio finito la scultura in diretta cioè le persone venivano per la mostra e non avevano me che lavoravo ancora all'opera perché ho una domanda da farti allora vabbè tutto questo format poi noi a volte ci dimentichiamo di dirlo però è tutto basato su quello che possono essere i fraintendimenti nostri di tutti in realtà in studio dall'autore che inizia a impostare le domande a Federico ad Antonio a me e Antonio dettato ovviamente da una da una ignoranza di fondo ma non con un'accezione negativa semplicemente perché non si può conoscere tutto e forse non è neanche così interessante conoscere tutto quindi mi piace vorrei farti delle domande che insomma anche un po' ampie larghe e in questo caso io ho sentito tante interviste ho letto tante cose negli anni di artisti alcuni con una mania per i dettagli cioè con per cui il capostipite Leonardo Da Vinci della serie non finiva mai le cose che iniziava perché continuava a cambiare qualcosa dei dettagli e altri artisti come può essere che ne so Michelangelo appunto che invece avevano più forse sicurezza in se stessi magari anche se erano assolutamente dei maniaci del dettaglio avevano più cioè finivano le cose che iniziavano tu come la vivi questa cosa per te anche quando una cosa è finita in realtà non è finita veramente oppure tu le cose le inizi e le finisci di sicuro che quando pensi che sia finita volendo si potrebbe ancora lavorare molto però sì di solito preferisco quasi poi ricominciare un'altra se non sono soddisfatto cioè di solito non sono mai soddisfatto per questo per questo che continuo a produrre sempre di più perché piano piano si superano i limiti di sicuro infatti infatti la domanda preferisco un'altra piuttosto che impazzire sullo stesso pezzo che può essere un problema di salute mentale magari no la domanda in effetti no la domanda in effetti aveva proprio cioè era proprio voleva andare a parare lì c'è la cosa che ho sempre invidiato ma che in realtà è bello da vedere che quando qualcuno fa un'opera estremamente fisica quindi non digitale come le opere di cui parlavamo sabato e prima è che in effetti tu cresci parallelamente alla tua opera nel senso che mentre la tua opera prende vita mentre la costruisci immagino poi dimmi tu se ha senso immagino che anche tu migliori perché sennò nasceremmo già al livello cui moriamo molte volte ed è anche molto istintiva nel senso che la scelta del soggetto è pian piano magari poi si evolve anche mentre che si lavora esattamente è capitato di aggiungere o modificare dei dettagli perché mentre che alla fine è un lavoro che richiede molto tempo e anche che sei in solitudine quindi metta confronto con tante cose e anche i pensieri magari evolvono mentre che ci stai lavorando esattamente e questo ti porta a fare delle modifiche in itinere anche mentre anche prima che finisca sì sì di sicuro che succede anche se cioè perché io lavoro così nel senso non è nulla di cutie certo è molto istintuale da quello che ho capito il tuo modo di vedere la scelta principale di sicuro è quella poi nei dettagli si può modificare tante cose mentre che ci si lavora certo ma a te capita di vedere il blocco intero e immaginarti già i dettagli più che l'opera e se se non avessi visualizzato prima quello che voglio fare non riuscirei neanche a cominciare capito neanche a togliere il primo pezzetto è sicuro che l'immagine è già chiara cioè appena ho l'immagine chiara in un attimo poi mi metto a lavorare è una sorta di magia perché alla fine con rumore e polvere quasi non percepisci neanche cosa stai facendo veramente e a fine giornata invece vedi proprio che si è concretizzato infatti a volte ci sono queste frasi tipo che la materia il pensiero genera la materia allora a volte mi sembra di essere un po' magico senti Naziano tornando alla parte tecnica che appunto prima hai nominato questo ago che ti dà la distanza quanto quanto marmo puoi intagliare insomma quanto la tecnica e la tecnologia ti aiutano nel tuo processo artistico nel senso vai tanto a sentimento oppure c'è tutto uno studio da fare prima di approcciarsi al al pezzo io uso degli attrezzi come il più grosso il materiale il più grosso del materiale lo taglio col flessibile e poi si lavora con scalpelli fino ad arrivare alle limette per levigare bene i dettagli però esempio questo cioè la quantità di marmo da tagliare cioè prendere le misure su questo cubo è una cosa che viene fatta a occhio cioè con l'esperienza oppure ti avvali di per come lavoro io va così cioè sono uscito un po' fuori dai canoni accademici quello che mi hanno insegnato in accademia l'ho buttato via tutto capito ok ma e quindi vedete che lavoro per profili ad esempio la macchina ci disegno un profilo e taglio via tutto poi cambio profilo cioè vado nella parte frontale disegno quello e taglio via tutto e già lì hai l'idea della forma ma tu questa no no vai vai ma tu questa 500 cioè l'hai fatta one shot cioè hai preso questo cubo di marmo e hai detto boh la taglio così taglio così boh cioè ho usato tante prove prima no perché io vabbè io sono totalmente incapace a fare questo ma dai Antonio dovessi fare una palla di marmo penso che dovrei fare 873 prove allora diventavo così un granello di polvere faccio una biglia ci siamo venuti quasi due anni per farla capito quindi di sicuro che non ho provato a farla già prima anzi magari era questa la prova adesso non so se la rifaccio però bello bello Razzarero io invece ti voglio chiedere una roba allora te ne voglio chiedere due in realtà la prima la prima diciamo la prima cosa che ti voglio dire ammorbidisce la seconda mettiamola così ok quindi è la prima passata di flessibile mi piace tutta l'arte io lavoro su cose molto diverse Antonio in realtà lavora su qualcosa di simile a quello in cui lavori tu paradossalmente io lavoro sulla musica e la musica di solito il pezzo il pezzo di marmo è il silenzio ed è dal silenzio che poi nasce qualcosa di rumoroso quindi che sia bello brutto però comunque nasce sempre dal silenzio mentre invece quello che fai tu e anche quello che fa Antonio quando fa il fisioterapista è avere un pezzo sul quale lavorare che poi diventa qualcos'altro quindi non nasce dall'assenza di qualcosa e questo cioè hai mai fatto caso cioè nel senso che quando qualcuno mi chiede come si fa a musica mi incuriosisce il fatto che per loro all'inizio c'è il silenzio all'inizio non c'è nulla e non è vero ovviamente perché in realtà c'è un'idea ci sono delle cose a cui appigliarsi ci sono delle chord progression ci sono delle melodie c'è sempre in realtà qualcosina da cui partire nel tuo caso quello da cui parti è una forma totalmente indefinita e questo rende forse il tuo lavoro effettivamente ancora più magico perché tu hai i tuoi riferimenti sono oggetti fisici i miei riferimenti è altra musica i tuoi non sono sculture potenzialmente dico bene ha senso questa visione sono curioso di sapere come nasce anche se secondo me non è un blocco parla anche se ha un cronoformo primordiale parla un sacco in più esatto in realtà è tutto fatto di vibrazioni no il marmo ha una consistenza molto strana proprio in questo piano materiale e quindi in realtà lo sai che la mia tesi parlava della luce del suono attraverso il marmo quindi ho fatto sia degli strumenti che suonano con delle corde e sono tutti cavi quindi suona che in realtà li ho qua in laboratorio se volete vi faccio fare un giro prima che finisca tutto ha voglia assolutamente bellissimo e l'altra domanda la luce invece era che c'erano queste ho fatto queste piccole diapositive che avevo sognato di fare di tanti marmi di colori diversi e mettendone nel vecchio proiettore si proiettano tutte le luci ah che bellezza i cristalli si aumentano di dimensione quindi vedi un sacco di cose l'altra domanda l'altra domanda che è quella invece un po' provocatoria ma ovviamente non vuole essere una provocazione è qualcosa che mi diverte chiederti semplicemente com'è che il tipo di arte che tu pratichi in modo incredibile ovviamente è sempre un tipo di arte che quando viene fatto bene sembra quasi da conferire rispetto ad altre forme d'arte una sorta di non lo so di dimensione quasi metafisica all'artista cioè ogni scultore veramente bravo e veramente anche della storia ha un ego spropositato che spesso spesso non c'è io non so non parlo di te ovviamente questo me lo devi dire tu anche se mi sembra comunque un pochettino come mai cioè la scultura forse la creazione di qualcosa vi dà una sorta di parvenza divina ha senso questa cosa magari sì magari ti dà un potere di sicuro un potere particolare è molto affascinante sentirvi tutti potrebbero fare quello che faccio però poi anche soggettivo non so io non mi rendo io non penso di avere chissà quale dono no però guarda a me piace perché effettivamente tanta determinazione pazienza ma secondo me tutti potrebbero no 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 ma è veramente una cosa che mi affascina perché io credo sempre che attraverso quello che fai definisci anche un po' quello che sei ma questo non è che l'ho scoperto io e in effetti io credo che proprio quello che ti dicevo prima la musica comunque nasce cioè la musica rimane abbastanza nell'etere cioè tu puoi scatolarla dentro un computer dentro Spotify dentro quello che vuoi ma poi alla fine rimane qualcosa di non tangibile l'idea di arrivare a creare delle cose che hanno una forma così solida così reale mi sembra che davvero riesca in qualche modo a trasformare chi lo fa in in qualcosa che somiglia molto a un creatore no più che più che un artista in certi sensi da me poi si va a ricollegare tutto un po' come la musica che rimane soprattutto se queste opere si apprenderanno questa trasformazione in digitale certo indubbiamente indubbiamente vai Smith scusa volevo farti una domanda che ci pongono dalla chat in particolare con Quilinando te la leggo ho intravisto nelle tue creazioni alcuni soggetti che potrebbero essere definiti poveri se non scarti mozziconi assorbenti usati eccetera eccetera tutto ciò mi colpisce molto forse perché siamo abituati a vedere utilizzato il marmo di Carrara per opere soggetti belli cosa ne pensi? mi viene in mente anche Fabio Viale che utilizza un materiale alto per soggetti apparentemente bassi finita in realtà alla fine la presentò la società per come in realtà nei soggetti che realizzo si trova sempre anche uno stato d'animo magari collettivo magari più individuale non so però di sicuro che la bellezza che cos'è alla fine se non aver vissuto tutto quello che volevi no? giusto bello molto bello bello e io invece volevo volevo chiederti appunto una roba agganciandomi a questo discorso ah forse stiamo proprio vedendo il video in questo momento ma che rapporto hai con le sigarette? in realtà non fumo non sono così d'accordo infatti tanti lavori in realtà sono anche una critica tipo c'è tutto questo lavoro che parla di droghe ok lo stiamo vedendo in questo momento sì ad esempio c'è una storia divertente non so se divertente ma comunque una storia tipo che prima del covid ci doveva essere questa mostra a New York le opere sono partite ed erano state selezionate da una curatrice e proprio tutte queste opere molto provocatorie che parlavano di droghe pesanti leggere sigarette e quindi tutto il lavoro è finito a New York e poi è stato esposto quest'anno perché col covid hanno rinviato e avevano selezionato tipo sei scultori da tutto il mondo questo ABC Stone che si occupa di sculture in marmoli a New York e là dopo l'evento cioè mi sono arrivati tutti i tag dell'evento e il giorno dopo mi arrivò il video ufficiale e due minuti di video che guardo e scopro che i miei lavori non esistevano in quel video e il giorno dopo la curatrice mortificata mi dice che il padrone dell'azienda non sapeva bene il lavoro che aveva selezionato e vedendo tutto questo è rimasto scioccato perché la sua esperienza personale è stata che la figlia ha avuto più di una verdosa e quindi mi hanno licenziato ma dai davvero porca traica mi hanno anche insabbiato tutto quindi da una parte se ci pensi il messaggio è passato perfettamente quello che doveva fare no? assolutamente molto figa queste sculture sono andate ad Arbaz e la Miami quindi forse se non fossi stato escluso da quell'evento non sarebbero andate là quindi forse in realtà era anche giusto così indubbiamente poi abbiamo per storia che la prima volta che ho esposto a New York hanno insabbiato tutto divertente pazzesco questo è veramente allucinante senti Nazareno tu prima hai detto tutto quello che mi hai insegnato all'accademia l'ho preso l'ho buttato che rapporto hai con lo studio della tecnica cioè nel senso in realtà anche giusto così secondo me nel senso mentre che sei lì senti tutte le opinioni di persone con più esperienza ma poi in realtà è una cosa talmente soggettiva che infatti gli scultori da sempre si sono fatti addirittura ognuno si faceva il suo strumento capito perché è come se sai ognuno per arrivare all'obiettivo ognuno ha il suo strumento certo ma Nazareno invece tornando un attimo al concetto di provocazione insegnare bene perché io posso farti vedere come come lo farei io però non è detto che tu ti troveresti comodo a fare così capito certo 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 ma invece tornando al concetto di provocazione perché volevo insistere un attimo cioè quindi fammi capire tu in realtà le tue opere avevano una connotazione profondamente provocatoria rispetto all'utilizzo delle droghe ed è stato tendenzialmente frainteso dal gallerista a questo punto sì ma perché in realtà è anche che appunto io sono di poche parole ma ognuno poi la percepisce in base a quello che ha vissuto quindi di sicuro che se è qualcosa che di sicuro che magari non è così comodo vedere certi soggetti ma perché parlano comunque della società in realtà quel telefono con la polvere sopra si intitola Toxicitech e parla più che la tecnologia è arrivata nelle mani di tutti ed è diventata anche qualcosa di pericoloso perché non viene usata in maniera corretta dalla massa quindi stiamo vivendo in tutto questo però la cosa che mi ho due curiosità la prima è ma perché tu quando ti sei stato quando sei stato selezionato il gallerista non sapeva che cosa avresti presentato o lo sapeva e non ha guardato è stato selezionato un lavoro da questa curatrice che ha scelto lei ma anche perché vedeva come lavoro molto forte e anche che comunque deve essere contemporaneo poi certo che non sono tutte cose la vita non è fatta di cose sempre belle quindi di sicuro che interessava mostrare quel lavoro poi i soci dei padroni dell'azienda erano tre e soltanto uno di loro ha messo in discussione ma che bastava che uno mettesse in discussione che andava così ma in realtà secondo me non so però tutto c'è una spiegazione e non è un male secondo me anzi ma va no no credo che l'arte sia fatta di questi momenti questi sono gli scalini che poi ti fanno andare al passo successivo immagino sì è un'evoluzione esatto la tua evoluzione è l'evoluzione cioè io credo che prendere delle porte in faccia anche se in questo caso è più per una questione di sfortuna quasi tante volte realizzo comunque cose che mi sono rimaste impresse anche che mi hanno scioccato magari no e anche se ci pensi cioè penso che sia capitato a tante persone di vedere che ormai è diventato anche di uso comune usare un telefonino per fare quello è strano pensi cioè il primo che ci è arrivato poi come tutti hanno seguito come molto strano tutto quello no come nasce sì indubbiamente oltre al fatto che io credo che non lo so mi ha sempre un po' incuriosito questa roba perché alla fine effettivamente poi il telefono si illumi cioè non so esattamente come funzioni cioè io devo dire non fumo neanche quindi sono molto sempre però questo tipo di ecco io ad esempio non fumo non mi sono mai drogato non ho mai fumato ma vedere questo tipo di opere per me non ha una connotazione cioè io non le vedo come qualcosa di positivo cioè lo percepisco che tu lei proprio c'è un consumo anche un po' sporco no di quello che è stato fatto e anche un po' approssimativo di quello che sono appunto quelle sostanze quindi non la non penso che tu l'abbia interpretato con una connotazione positiva almeno questo è quello che arriva a me quindi mi fa strano mi incuriosisce come il gallerista possa averle trovate offensive ecco questo mi però ognuno deriva dalla sua esperienza probabilmente Nazareno ah scusi no Giustani devi rispondere mi ero perso in me stesso Nazareno vediamo un po' lo studio che volevi io sono un gasato nero voglio vedere il suo studio eh lo so lo so smica te colpiscono molto anche a me vabbè ovviamente è incredibile questo è Nazareno questi sono due tronini di marco aspetta che mi avvicino perché io qua vedo solo una nevicata bianca scusa un attimo questi sono i pezzi che ho tagliato da dentro a 500 che ho disposto così qua dentro è tutto uno stato di polvere hanno ingrandito lo schermo per nonno Tony scusate questo è il modello della 500 che ho dato il giro quando ho finito la macchina quando ho finito la scultura ho dato il giro alla 500 è rimassata la 500 vera impolverata il modello che ho usato tutta impolverata scusa ma Nazareno ma non potresti che ne so prendere una roba e dipingerla di bianco e sbatterti nei coglioni io sto scherzando dovrete vedere delle sculture di qua ci sono molte sculture facci vedere qui c'è la vespa che roba ma tutto questo si può dire dov'è lo studio è vicino a Venaria nelle valli di Ranzo ok ho capito è un bellissimo spazio questa è una valigetta con dentro c'è la polvere che ho levigato perché in realtà tutto questo della polvere se ci pensi il mio lavoro risiede all'interno cioè in quello che tolgo quindi quando finisco l'opera è il pezzo che non tocco più che in realtà però paradossalmente prende valore sul mercato quando invece vale molto di più tutto quello che ho lavorato che verrebbe buttato io infatti succede che in alcune mostre è successo che le polverine facevo queste bustine che potevi andare anche a donare attraverso il QR code e dentro c'era la polvere dei lavori che c'erano nella mostra e che in realtà dove risiede tutto il mio lavoro è nella polvere che levigo e quindi il mio vero lavoro veniva donato e volendo potevi anche aiutare tipo dei bimbi in difficoltà mentre le opere che restavano erano quelle bellissimo veramente stupendo sì ci sono tante cose questi sono gli strumenti di cui vi parlavo questo è tutto vuoto è vuoto dentro e quindi può suonare che spettacolo senti ma quella è una corona vertebrale unita a co cioè la testa invece di cosa? sembra non so è una cosa un po' astratta è tipo un cavalluccio marino ok era solo per chiedere che vedevo un po' di anatomia allora senti ma tu a parte a parte la scultura che sei invece questa invece tutta sospesa non c'è nulla di legato è solo intenzione che figata praticamente questo stesso peso mantiene in tensione le corde che suonano non ci sono noti è tutto è tutto in tensione legato così ma tu pensa a Nazareno che ti arriva e ti fa una tesi di laurea così cosa devi dirgli? eh che mi spegne immagina la classica tesi di laurea sai studio sul marmo e le sue caratteristiche poi arrivi tu con la con la lira fatta di con le corde in tensione di una testa in mezzo sei un mostro sei senti Nazareno mostruoso Nazareno mostruoso Nazareno ma ti è mai successo che un'opera ti ha spezzato il cuore che ti piaceva e ti si è rotta a metà mentre la levigavi col flessibile non penso che possa succedere quello non può succedere cioè non è una cosa cioè non sono così fragili no sì bisogna essere molto delicati perché infatti uno si immagina che il marmo sia sai qualcosa di solido ma in realtà è come fosse il vetro praticamente devi fare attenzione si può scheggiare in mille modi eh infatti questo ti volevo chiedere e non ti è mai successo però così a pensarci su due piedi no non ho rotto non hai mai rotto nulla sì Nazareno volevo farti una domanda ehm c'è un cioè ad esempio Clapis che è una persona che dice di fare arte con degli oggetti appunto della nostra epoca e tu c'è un soggetto del genere non so come dirti perché Clapis mi sembra la brutta coppia di quello che fai tu capito mi sembra una roba cioè questa è roba vera e Clapis mi sembra che lui fa la roba che compri su Amazon perché questo dici perché no perché poi vedo gente che fa ste robe capito sono nelle valli di Lanzo poi ce l'ho lì capito io starei tutto il giorno a tirarmela a dire guarda ho fatto la testa la cedra capito e invece lui sembra che non ne freghi niente cioè nel senso che lo fa perché è spinto da una spinta superiore che arriva da Dio e lo fa e bo cioè sembri uno strumento di Dio a differenza di Clapis che invece fa il magari l'elicotterino il non so mi piace molto la roba di Clapis ma soprattutto succede che devi essere bravo di sicuro che oggi possono essere tutti artisti contemporanei soprattutto se sanno presentarsi nel migliore dei modi e e anche vendere cioè oggi si può fare tutto no? sì però vedi mi parli di apparire vendere cioè nel senso a te queste cose interessano non mi sembra di essere nato l'altro anno come mille anni fa cioè esatto ma com'è il rapporto quindi allora io ovviamente noi almeno io non ho assolutamente la capacità di giudicare un artista figurativo in nessun caso in nessun modo e non riesco mai a capire effettivamente come diceva Antonio qual è il limite no? come si fa cioè ci sono delle robe oggettive io quello che ho visto nell'altra parte dello studio cioè credo che chiunque anche veramente qualcuno che è nato proprio ieri possa riconoscere un'artisticità veramente importante e un e delle capacità poi ripeto non ho idea di come sia il processo per arrivare a una cosa del genere però effettivamente come 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 si può anche paragonando l'arte all'arte digitale come si può riuscire ad avere una chiave di lettura che non faccia cadere in provocazioni banali tipo quello non mi piace quello non è in grado cioè c'è un modo cioè come valuti tu un artista se lo valuti ovviamente eh in realtà non so va bene sì ci sono tante cose che mi affascinano anche ho studiato un sacco di artisti ma ogni volta che mi chiedono quale è tuo preferito sono lì che devo farmi interloccare non ricordo mi affascinano tutto in generale in realtà di questo campo e non so mi sono sempre preoccupato di ma in realtà che poi è quasi che sono un po' egoista perché è una sorta di cura che faccio per me nel senso che da quando lavoro il marmo è tutto un po' migliore e quindi non mi sono neanche mai preoccupato troppo di dove farlo finire dove sai come crescere a livello che ne so di essere conosciuto di più in realtà sono stato fortunato perché infatti poi mi è bastato pubblicare delle cose io ad esempio non ho mai avuto social è arrivato il momento che avevo un sacco di opere d'arte quindi ho aperto delle pagine le ho pubblicate tutte però ad esempio tanti curatori critici che magari mi selezionano poi quando mi incontrano di persona perché adesso un po' di più magari mi si riconosce ma una volta proprio non c'erano neanche mie foto e si immaginavano tutti di trovare un signore infatti ancora adesso mi succede una volta è venuta fino a qua in laboratorio sono uscito a vestito da lavoro ero tutto un po' impolverato nella piazza per incontrarla e portarla qui e lei si teneva la borsa pensando che fossi lì per shipparla e poi l'ho shippata e poi l'ho shippata mi serveva un pezzo di marmol ed è ma sì tu mi aspettavo un signore perché comunque ho prodotto come un pazzo è certo si sembra che ci hai messo 30 anni ce l'hai ancora la tua numero uno tu? la moneta numero ce l'hai la tua numero uno? c'è il tuo primo pezzo? ce l'hai ancora? lo tieni? te lo ricordi? l'ho guardato con mia madre ah quindi ce l'ha lei si può sapere che cos'è? sono delle labbra ah bello bello ci pensi di avere Nazareno come parente? quanti cose quante cose c'hai a casa di marmo pensa a fare un regalo di Natale a Nazareno che ti arriva lì con un con un panda di marmo fatto che mia sorella Natale mi diceva un'altra scultura madonna ti metti in tasca che non si sa mai aspetta che la vita è lunga madonna va bene Nazareno molto bello veramente siamo estremamente colpiti da da questa finestra bianca sul mondo siamo scolpiti ma quando mi chiamate per fare la diretta? la diretta la facciamo tra un'oretta adesso questa era la chiacchierata introduttiva allora resto connesso sì sì tu resta connesso poi ti diciamo noi quando io un giorno voglio un voglio una scultura di Nazareno qua voglio eh sarebbe bello un giorno ci fai un uovo sodo o uno spermatozoo qualcosa ci devi fare Nazareno perché bello l'uovo sodo è molto bello ma tu fai su commissione o questa cosa non succederà mai? se rispecchia un po' diciamo la poetica del lavoro c'è una roba triste buttata va bene beh l'uovo sodo devo dire che possiamo immaginare è la vita buttata in un'acqua che bolle dai figo è carina è la vita buttata al uovo sodo guarda noi abbiamo chiesto a un po' di artisti che abbiamo ospitato ovviamente se se ci danno qualcosa ovviamente anche cioè noi siamo ben disposti a a pagare perché è giusto che sia così noi siamo in attesa cioè se vuoi tutto questo è per avere una grattata di marmo esatto posso portarvi un borsone di polvere e chiamare anche qualcuno che venga ad arrestarvi si si può fare porta la polvere che noi la usiamo non ti preoccupare qualcosa ce ne facciamo che da quando ho archiviato 50 kg di polvere della 500 ne ho messi 10 in macchina in un borsone di pelle e aspetto che ti trovino per fare un verbale sarebbe bellissimo come autentica capito che dichiarano la polizia dichiara che è marmo hanno fatto i controlli sarebbe veramente una hit sarebbe veramente bello un po' pericoloso ma non fatelo a casa è successo che tornavo da questa mostra da Torino e probabilmente mi hanno fermato solo che pioveva io faccio per scendere perché volevo aprire il bagagliaglio e fargli vedere quello e il poliziotto mi ha chiuso il sportello e mi ha detto non c'è bisogno che scendi e allora ho pensato vabbè allora vado a prendere la roba dietro stavi per fare l'arresto migliore della tua carriera con 50 kg di cocaina veramente volevo aprirsi dietro no non c'è bisogno quindi ok allora ragazzi se avete 50 kg di cocaina nel bagagliaio mi raccomando dite che è marmo che lo sarebbe portato a Nazareno non vi preoccupate no no fate il gesto di aprire che si fermano ma non avete capito è polvere di marmo no no l'abbiamo capito l'avevamo capito purtroppo l'avevamo capito Nazareno l'avevamo capito l'avevamo capito quante 500 ci vengono con la fronte di Garella con quel cubo di marmo che c'ha lì quel capocciolo non è che c'ha lì non so ci penso va bene Nazareno allora noi purtroppo abbiamo finito la nostra ma Nazareno è quel ragazzo altissimo che c'era l'altra sera all'evento esatto certo ma io tu eri quello seduto che non parlava io sono sempre quello quello che non parla mai Nazareno tu pensi di essere fuori dal mondo perché non hai ancora incontrato e parlato un giorno con Antonio credi ti fai un'altra idea del fuori dal mondo c'è sempre un altro fuori Antonio cosa? ma chi è Antonio? Antonio sarebbe smilso quello con la tuta arancione è un ragazzo che dopo arriva un antipatico va bene ragazzi io direi che possiamo salutare Nazareno che ringraziamo ovviamente di cuore un saluto a chiunque abbia seguito altre voi tre c'è sono anche altre persone dietro se vuoi sono 4-5 tutti e 5 grazie ragazzi ciao Nazareno ciao ragazzi grazie mille ci aggiorniamo buon Natale Nazza a presto buon Natale grazie a tutti